Ancora furti sulle spiagge agrigentine, dove in questi mesi sono stati presi più volte di mira beni oggetti di valore sia portati sulla spiaggia stessa che lasciati in auto. Stavolta la disavventura è toccata a un giovane di 29 anni di Favara, che si era recato a Portempedocle per trascorrere qualche ora di relax al mare insieme ad un amico. Solo che dopo aver trascorso circa un'ora in un lido della cittadina agrigentina, ha trovato l'amara sorpresa quando è tornato verso la propria auto. Qualcuno aveva aperto il bagagliaio della sua auto, una Opel Corsa, rubando le carte di credito e il libretto Smart che proprio per prudenza l'uomo aveva lasciato all'interno della vettura. Stesso destino subito dall'amico del 29enne, il quale aveva lasciato a sua volta le carte di credito in auto e che sono state rubate anche a quest'ultimo. A questo punto non è rimasto nulla da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri di Agrigento, i quali hanno avviato subito le indagini. Sarà difficile riuscire ad individuare i responsabili, visto che nella zona dove è venuto il furto non sembrano esserci impianti di videosorveglianza. La speranza è che qualche passante possa essersi accorto di maneggi strani o della presenza di persone sospette, anche se finora nessuno sembra aver notato cosa stava accadendo negli istanti in cui il furto veniva perpetrato.